Buongiorno a tutti, mi chiamo Ivano Ortenzi e sono molto contento di essere qui con voi e soprattutto di essere in questa location perché esattamente due anni fa, durante la Digital Week di Milano, ho fatto il mio primo speech, il mio primo intervento in qualità di Chief Innovation Evangelist e ovviamente essendo qui in platea, essendoci molte persone che lavorano nell'HR, voi sapete benissimo cosa fa un Chief Innovation Evangelist, giusto? La job description di un Chief Innovation Evangelist è assolutamente chiara. C'è qualcuno che non sa cosa fa un Chief Innovation Evangelist? Non lo so neanch'io, se dovessi essere sincero. Se la tecnologia ci assiste, io non ho le slide sul palco, scusatemi. Ok, è la prima domanda che mi fanno. Quindi la prima domanda che mi fanno è, ma che fai? Allora, fondamentalmente lavorando all'interno di una grande società di consulenza che si chiama BIP, io lavoro con le aziende e cerco di incrociare in maniera differente, diciamo non lineare, alcuni elementi. Il primo elemento ovviamente è la tecnologia, che non è solo digitale. Quindi uno dei miei obiettivi di oggi è distruggere la prosopopea del digitale. Quindi la tecnologia non è solo digitale. Il secondo elemento sono i comportamenti umani. Quindi come la tecnologia influenza i comportamenti umani e come i comportamenti umani determinano i tassi di adozione della tecnologia. Terzo elemento sono ovviamente le informazioni. Anche in questo caso abbiamo una grande prosopopea dell'intelligenza artificiale che oggi cercherò un po' di rimettere al suo posto, rimettere nell'angolo. Questi tre elementi si combinano. C'è un fattore abilitante che si chiama competenze ed è naturalmente il combinato disposto, come vedremo insieme, che determina la nascita dei nuovi modelli di business, piuttosto che dei nuovi prodotti, di nuove organizzazioni, così come è stato introdotto. Futuro delle char. Il mio intervento oggi, svelo subito l'assassino. E quindi ve lo dico subito. Chi di voi ha sul bigliettino da visita HR, su le mani per favore. Benissimo. Prendete una penna, prendete un vostro bigliettino da visita e sopra la R fate un 2. Un apice. E vi spiegherò perché. Recentemente ho pubblicato due libri. Due libri, uno dedicato all'intelligenza artificiale e poi ne parleremo. E uno dedicato a forse un vostro nuovo collega che si chiama Innovation Manager. Magari lo avete assunto negli ultimi 18 mesi, negli ultimi 12 mesi. Oppure state cercando un Innovation Manager, un Digital Director. Ecco, questo è il libro che riassume un po' 15 anni di esperienza nell'innovazione dedicato a una figura, ormai sembra molto, persino il governo ha detto che ogni azienda ha bisogno di un Innovation Manager. Cioè siamo in attesa del famoso elenco degli Innovation Manager italiani. Ma l'argomento di oggi è Augmented Human. Ed è un concetto che secondo me non è nuovo. Chi di voi porta gli occhiali sulle mani? Siete Augmented Human. Chi di voi porta le lente a contatto è Augmented Human. Io ho un papà che è un impiantato, è diabetico, ha un sensore qui sulla spalla, prende un piccolo terminale grosso così e si misura la glicemia in questo modo. È Augmented Human. Quindi Augmented Human non è un concetto nuovo. È un concetto che è strettamente correlato all'evoluzione dell'essere umano. Chi oggi ha protesi in titanio piuttosto che altre tipologie di protesi. Stampiamo degli arti in 3D. Sono tutti esempi di Augmented Human. Gli occhiali che citavo prima forse è l'esempio che abbiamo sotto gli occhi e spesso e volentieri trascuriamo. Perché? Perché c'è molto più facile pensare ad aumentare le cose. Io ho portato un esempio di Augmented Vino. Secondo voi il vino, la bottiglia di vino si può aumentare? Sì, vi faccio vedere questa fantastica compagnia di etichetta di vini australiani che ha creato una Augmented Bottiglia di Vino. Piccola applicazione di realtà aumentata. Voi inquadrate col vostro smartphone l'etichetta. L'etichetta vi parla. Sono 12 bottiglie di vino che raccontano la storia di 12 galeotti, inglesi, irlandesi, scozzesi, gallesi, sono stati deportati in Australia, a cui è stata dedicata una bottiglia di vino. Amete mai visto degli Augmented Cannelloni? Io li ho mangiati. Questi sono Cannelloni alla Bolognese stampati in 3D. Vedete? Sono perfetti. È l'incrocio perfetto fra ingegneria, architettura e il cuoco. Sono anche buoni. Augmented Polpette. Avete mangiato le Augmented Polpette? Io le ho mangiate. Quali sono le polpette fake? Quelle di destra o quelle di sinistra? Una polpetta è fatta con carne di provenienza animale, sugo e piselli è quello tradizionale. Una polpetta è fatta con Beyond Meat. Sapete, ci sono alcune aziende negli Stati Uniti che stanno raccogliendo tantissimi capitali, in particolare Impossible Burger e Beyond Meat, che hanno creato la carne non carne. Cioè è una carne, solitamente estratta da proteine vegetali, che inganna il cervello e dice al cervello, tu pensi di mangiare beef, pensi di mangiare manzo e vitello, ma invece ti stai mangiando una roba fatta con la soia, oppure come in questo caso una cosa fatta con proteine estratte dai piselli. Le polpette fake sono quelle a destra e sono più buone di quelle a sinistra. Ho fatto il blind test con Future Food. Aumentiamo anche i nostri animali domestici? Avete pensato mai ad avere un gatto aumentato, un cane aumentato? Eccolo qui. Lo vedete? Lui è Spock. È uno dei robot di punta della Boston Dynamics, leader di mercato nella robotica. Lo vedete? Ecco, adesso lo vedete così. Provate a immaginarlo ricoperto di pelo, con un bel musetto. Potete scegliere che pelo volete. Volete un cane arancione, volete un cane blu, lo volete con i truccioli, lo volete? Lo ricoprite e avrete ovviamente augmented feed. Il tema qual è? È che siamo in questo momento molto propensi a fare le cose aumentate e a pensare ovviamente in robot aumentate. Ma siamo pronti all'augmented human? E soprattutto qual è il passo successivo quando parliamo di essere umano aumentato? In questo momento la letteratura dà tre dinamiche, tre direzioni di sviluppo. La prima forse è quella che sta già capitando da più anni ed è l'ingegneria genetica. Che sia CRISP, che sia mappatura del DNA o altre tipologie, c'è una grande area di ricerca e non solo di ricerca che sta lavorando sull'ingegneria genetica. L'ingegneria genetica, se ci pensate aggiungere qualcosa, una sorta di OGM umano, possiamo fare questo paragone, il famoso salmone che sa di pomodoro. Allora immaginate l'ingegneria genetica sull'essere umano, che può essere assolutamente positiva, può correggere. C'è chi ovviamente vede in questo tema, ed è un tema morale, etico, addirittura delle derivi di eugenetica. Il secondo punto, la seconda direzione della letteratura sull'augmento di human è quello che viene chiamato transumanesimo. Il transumanesimo sono poi i terrapiattisti dell'essere umano. Se andate in rete, cercate transumanesimo, c'è questo movimento sovranazionale che raccoglie anche alcune delle menti più illuminate del pianeta, che dice che noi saremo un incrocio fra materiale di carbonio, l'essere umano, e materiale di silicio. Le protesi, c'è qualcuno che pensa che ci infideremo dei chip nel cervello. Il transumanesimo è quello. C'è un'evoluzione, lo scrive anche Harari, famosissimo nel suo libro, della necessità di andare oltre l'uomo sapiens, che sia sapiens sapiens, come lo chiama lui, homo deus, cioè proprio transumanesimo. Il terzo, la terza deriva di questo augmented human è l'extracorpo. L'extracorpo, io l'unica cosa che vi posso consigliare per approfondire il tema dell'extracorpo è di guardare la quarta puntata della serie 3 di Black Mirror. Chi di voi non conosce Black Mirror? Sulle mani. Black Mirror è il miglior libro di management sulla digital transformation che possiamo avere. È una serie tv di Netflix. In particolare il quarto episodio della terza serie che si chiama San Junipero, vi spiega che cos'è l'extracorpo. Cioè l'extracorpo è la capacità tecnologica di clonare il nostro cervello, un essere umano, non fisico ma cognitivo, in rete, da qualche parte. Sparato su Marte, tenuto nel server cloud, avere la possibilità di avere sotto la scrivania, non so, il pensiero cognitivo, la capacità di marketing, di Steve Jobs e quindi di interrogarlo. Anche in questo caso aziende che stanno raccogliendo i soldi per fare questo tipo di attività. Ma che cos'è che ci fa paura? Ci fa paura la relazione. Ci fa paura noi, esseri umani, che siamo sempre stati abituati a relazionarci fra di noi. Recentemente abbiamo messo degli schermi fra di noi. Quindi voi parlate con qualcuno, arriva la notifica, vi mette uno schermo davanti, davanti alla faccia, che sia sul telefono o che sia sull'orologio o che sia sul pc. In questo caso quello che ci fa paura è ma che modello di relazione avremo noi, esseri umani aumentati, non solo fra di noi, ma fra noi e le macchine. Non so se conoscete Neil Arbisson, è il primo essere umano che sulla carta d'identità ha scritto cyborg. Lui non è un cyborg, è il primo essere umano cyborg. Perché cyborg? Perché lui è un mix di tecnologia e capacità cognitivo umane. Con quell'archetto che ha sulla testa, l'archetto è una telecamera, vede i colori e lui che è impossibilitato a vedere i colori, con un impianto nel cervello, l'archetto che trasforma le immagini in impulsi sonori, in impulsi elettrici, dice all'essere umano guarda che quello è nero, guarda che quello è blu. Questo è un esempio di quello che potrebbe succedere. Sia in positivo che eventualmente capite benissimo come il tema morale, etico, è un tema che si pone molto forte. E quando parliamo di intelligenza artificiale, che in questo momento non è un futuro distopico che spesso e volentieri vediamo in televisione rappresentato dai film di fantascienza, in questo momento è la fortuna di avere una grande potenza di calcolo che sta crescendo e che consente alle macchine di poter processare un gran numero di informazioni in maniera, diciamo, intelligente. Quindi in questo momento quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo di potenza di calcolo applicata. Questo è un bellissimo grafico di tutti i libri che potete trovare, forse il grafico migliore, che spiega dove va questa potenza di calcolo. Questa potenza di calcolo è come se fosse una marea che sta crescendo. Alcune cose le sta coprendo, quindi ci sta sostituendo, alcune cose forse ci arriverà o avrà difficoltà ad arrivare a raggiungere, ad esempio, la parte del programmazione, la parte del design, la parte della scienza, dell'arte, del management. Ma se noi facciamo delle cose che sono sulla parte verde e quindi veniamo ai lavori, questa marea copre. E come copre? Lo copre con una dinamica che vi farò vedere fra poco. Il problema qual è? È che quando ragioniamo su quella marea, noi pensiamo che quella marea progredisca e salga in maniera lineare. Perché? Perché purtroppo, anzi, diciamo per fortuna, noi abbiamo quello che gli informatici chiamano il bias. Ed è un bias che è dovuto a questi tre maledetti greci che vi presento, che sono Socrate, Aristotele e Platone. Questi signori, circa 2400-2500 anni fa, hanno detto e ci hanno detto come ragioniamo. Fondamentalmente l'essere umano, anche quando sarà aumentato, ragiona su due processi cognitivi base, deduttivo e induttivo. Noi siamo bravissimi a prendere cosa ha funzionato nel passato e a proiettarlo nel futuro. Causa-effetto, effetto-causa. Il problema è che quando ragioniamo in termini di, chiamiamola innovazione, di scenari futuri, il nostro bias ci fa stare in quel triangolo blu. Ma quello che succederà sta nel triangolo verde, sta in quello che io chiamo i gap. E quando parliamo di gap, non parliamo di trasformazione digitale. Molte delle vostre aziende sono impegnate in progetti di digital transformation. Se ci pensate, i progetti di digital transformation in cui siete in questo momento occupati sono progetti di sostituzione. Sono augmented company, augmented corporate. State sostituendo delle cose. Carta con digitale, persone con chatbot, processi con algoritmi. Il vero tema è che quello che arriverà non è trasformazione, è metamorfosi. E quindi il vero tema delle aziende oggi è cercare di capire o mediare la necessità dell'efficacia, pardon, la necessità dell'efficienza della trasformazione con il futuro e l'efficacia della metamorfosi. E questo per l'azienda è molto difficile. Perché a meno che voi non siate nati in quel mondo fantastico e aumentato digitale, le aziende oggi hanno un problema. Scontano. Cosa scontano? Scontano la lentezza. Ovvero la capacità trasformativa delle aziende che sono nate, diciamo, prima della rivoluzione digitale, viaggiano in maniera molto più lenta rispetto a che cosa? Alle nostre aspettative come esseri umani, alle nostre aspettative come dipendenti, alle nostre aspettative come professionisti, alle nostre aspettative come clienti, alle nostre aspettative come utenti. E quando parliamo di gap, io dico sempre alle aziende, diciamo ai miei clienti, mind the gap. Perché in qualsiasi campo voi siate, rispetto a quello che sta succedendo fuori, avete un gap. E come lo riempiamo questo gap? Lo riempiamo, come vi dicevo prima, con quattro cose. Tecnologia, comportamenti, nuove competenze e il nuovo utilizzo dei dati che ci portano nuove informazioni. E in questo momento, visto il grafico che avete visto prima della marea, per fortuna in mezzo a governare tutto quanto ci sono ancora le persone. Ci sono, diciamo, le risorse. Ci sono le persone, c'è la cultura aziendale e c'è l'attitudine aziendale. Allora, se vogliamo ragionare in termini di HR aumentato, perché vi ho detto di mettere un 2 sopra la R? E questo va anche, diciamo, del ruolo delle HR nel futuro, che per futuro vuol dire 3-5 anni, ma soprattutto anche nel vostro ruolo all'interno dell'azienda. Perché la R al quadrato sta per Human and Robotic Resources. Perché voi dovrete gestire non solo gli esseri umani, diciamo, le cose fatte di carbonio. Vi sarà richiesto, e secondo me in questo momento avete la possibilità di mettere la mano avanti, un piede, diciamo, nella porta, anche di gestire le altre tipologie di asset e risorse aziendali, che sono quelle fatte di silicio, che sono fede che chiamiamo robotiche. Ma non sono solo robotiche. All'interno del HR al quadrato ci sono le persone. Chi mi ha introdotto ha detto i team. Quanti di voi hanno sul tavolo, sulla scrivania, cose con sopra scritto la parola agile? Ma agile vuol dire che dovrete gestire non più singole persone, gestite dei team di lavoro. E quindi se fate, diciamo, se fate recruiting, molto probabilmente dovrete fare recruiting di team e non di persone singole. Dovrete gestire algoritmi, dovrete gestire delle interfacce, dovrete gestire dei device, dovrete gestire dei sistemi esperti. Perché questo potrebbe essere un asset aziendale. Questo è un anchorman di una televisione cinese. Ma è finto, è un algoritmo, è un'interfaccia. Questo lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non ha buoni pasto, non ha il work life balance, ok? Non ha niente. Impara le lingue con un click, può parlare in inglese, in cinese, in italiano automaticamente. Perché che tipo di mondo ci aspetta? Ci aspetta il mondo aumentato, che io chiamo il mondo ibrido. E non è un mondo fatto di trasformazione. Vi faccio un piccolo esempio molto interessante. Questa è una ricerca fatta dalla scuola di medicina di Harvard, sull'applicazione dell'intelligenza artificiale, riconoscimento immagini, quindi la parte di riconoscimento immagini del diagnostico, sulla capacità di anamnesi, quindi di fare la diagnosi esatta in oncologia, in determinati con parti dell'oncologia. La macchina ci azzecca al 92%, l'essere umano, i dottori ci azzeccano al 96%, l'unione ibrida tra essere umano e macchina, il famoso HR al quadrato, ci azzecca al 99,5%. Capite che quando io parlo di mondo ibrido, parlo di un mondo che è un mondo di relazione, è un mondo che è fatto di inclusione, di diversity, ma la diversity non è solo fra di noi, sarà diversity anche nei confronti di quel giornalista che avete visto prima. Io una volta in un convegno col direttore del resto del Carlino ho detto giornalista, sono stato aggredito verbalmente, quello non è un giornalista, però vado a spiegare a mio figlio che quello non è un giornalista, vado a spiegare a mio figlio che quello non è un ancor me. C'è un tema di convergenza e lo vivete a seconda dei settori, ma non solo nei settori, convergenza fra la tecnologia di casa e la tecnologia in ufficio e c'è ovviamente un tema di spazio. attenzione per chi di voi lavora nelle char, l'ecosistema è pieno di start-up che vi stanno rosicchiando il lavoro, è pieno di start-up che stanno lavorando e prendendo soldi in quel mondo ibrido per disintermediarvi. Ma non siete i primi, è successo in altri settori e succederà sempre. Quindi queste tematiche dovete tenerle sotto osservazione. E quali sono i tre principali elementi chiave che vi pongo all'attenzione, voi delle char al quadrato? Il primo è stato citato prima, le nuove organizzazioni. Il secondo è la battaglia per i talenti. Io lavoro con qualche banca e rispetto a vent'anni fa fare acquisizione in una banca dei talenti è complicatissimo. Terzo, spiegare ai colleghi, ai manager, ai vostri colleghi che dobbiamo cambiare lo stile di leadership. Queste tre cose, vi faccio qualche esempio e poi vi lascio ai lavori della giornata. Sulle architetture organizzative, per anni abbiamo disegnato le aziende corporate centric, piramidone. Poi sono arrivati i consulenti e hanno detto no, dovete essere customer centric e quindi per 25 anni abbiamo parlato di mettere il cliente al centro e dal punto di vista organizzativo cosa abbiamo fatto? Abbiamo niente altro fatto che rovesciare la piramide. Adesso il tema è unire i due mondi, costruire delle organizzazioni aziendali che siano contemporaneamente corporate centric e customer centric, employee centric e user centric. E la parola chiave che sarà chiave anche per gestire il tema etico, il tema della morale sarà il vostro proposito. Perché state sul mercato e perché le persone lavorano per voi. Questo sarà l'elemento chiave su cui costruire l'organizzazione aziendale. Perché? Poi si può parlare ovviamente dell'acquisizione dei talenti e quindi ci sono molti temi di employee experience. Ovvero tratta i tuoi colleghi e i tuoi dipendenti così come negli ultimi 25 anni hai speso soldi per trattare i tuoi clienti. E quindi nasce il tema della employee experience. Ultimo, la leadership. Il tema qui, poi sono a vostra disposizione se vogliamo approfondirlo, è che se abbiamo un mondo ibrido abbiamo bisogno di una leadership ibrida. È una leadership ibrida che coniuga i due mondi. Coniuga il mondo del controllo e della gestione col mondo del proposito. Col mondo di quello che dicevamo prima essere il fine, il proposito di business. E quindi la capacità di gestire gli irrequieti, la capacità di gestire ovviamente la paura, che è un fortissimo elemento di cambiamento e di innovazione, e la capacità di gestire l'autonomia. Voi spesso immagino abbiate progetti di smart working, ovviamente capite benissimo come lo smart working ibrido al quadrato diventa un elemento da leadership ibrida. Possiamo già pensare a un un augmented HR al quadrato? Secondo me no, abbiamo ancora problemi nel cercare di creare l'augmented HR. Il mio punto di vista è che questo che vi ho raccontato capiterà molto più velocemente di quello che possiamo immaginare. E quindi chiudo dandovi un punto di vista da parte del più bravo fondo di venture capital al mondo, che si chiama Andersen Eorovitz, che fa questa mappa dei lavori del futuro. Questi sono i lavori che resisteranno, sono i lavori che determineranno la famosa capacità dell'HR ibrido. È interessante questa mappa che unisce la capacità di creatività e di strategia con l'ottimizzazione e con l'elemento di empatia, che loro chiamano compassione. Tutto quello che vi ho fatto vedere lo trovate in rete e questa la trovate tranquillamente goggolando Andersen Eorovitz New Job. Fa parte di una loro presentazione istituzionale, sotto avete i riferimenti. Vi lascio con cinque elementi base delle HR al quadrato. Il primo ovviamente è autonomia delle risorse distribuite. Il secondo è dovete imparare e dovete diventare degli esperti di analytics e di dati. Quindi diciamo degli esperti di intelligenza artificiale applicata ai processi HR. Terzo, per fortuna avete ancora le persone da gestire e quindi benvenga l'HR diciamo tradizionale. Quarto, il famoso 2, quindi necessità di gestire anche gli asset, chiamiamoli di silicio. E in ultimo uno dei miei punti un po' diciamo così più d'attenzione, la convergenza fra facility management e HR. Perché i posti di lavoro diventeranno, il posto di lavoro fisico diventerà una struttura, un asset abilitante del nuovo modo di fare HR. I miei riferimenti, sono qui tutta la mattinata perché sono molto curioso dei vostri lavori, di quello che arriverà dopo. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.